Benvenuti nei corsi a distanza in improvvisazione, questo è il corso pratico di teoria e armonia moderna e io sono Silvia Cucchi. I corsi sono organizzati dal musicatorio. Questa nuova lezione teorica riguarderà l'improvvisazione bebop, un approccio verticale e orizzontale all'improvvisazione. Intanto cosa si intende per bebop? Il bebop è un piccolo cenno storico, anche se ovviamente non sono la persona più adatta a parlare di storia del jazz, né la prezzetta di questo corso, ma per contestualizzarlo, il bebop è uno stile nel jazz, un stile improvvisativo che si è sviluppato a New York intorno agli anni 40, spesso viene definito come bop, abbreviato. È caratterizzato da brani con tempi molto veloci, elaborazioni armoniche piuttosto innovative e questo stile, bebop è nato in quegli anni un po' in contrapposizione agli stili jazzistici utilizzati dalle formazioni contemporanee dell'epoca. Questo stile si caratterizza armonicamente per l'utilizzo di giri armonici che sono abbastanza semplici, che erano quelli già utilizzati dai jazzisti, ma con frequenti sostituzioni armoniche, utilizzo di accordi diminuiti, aumentati, quindi accordi di maggiore tensione, che portano frequente ricorso alle dissonanze e anche un atteggiamento all'improvvisazione attraverso nuove scale su cui improvvisare, infatti oggi parleremo di scale bebop. Ricordiamo tra i padri fondatori del bebop, ovviamente Charlie Parker e Gizzi Ghillespi. Dunque, il titolo della lezione era improvvisazione bebop tra approccio verticale e orizzontale. Per chi non ha seguito le precedenti lezioni teoriche, questo titolo può essere un po' fuorviante, quindi farò una piccolissima parte di lezione destinata a un po' di ripasso su quelle che sono le diverse tecniche improvvisative per definire questo concetto di verticale e orizzontale. Dunque abbiamo visto nelle precedenti lezioni che le tecniche improvvisative sono tante e per riuscire a improvvisare occorre darsi dei binari, dei punti di vista. Uno di questi punti di vista può essere quello di pensare in verticale o in orizzontale. Quando si pensa in orizzontale si tende ad associare delle scale a dei giri armonici e improvvisare sulle scale. Se invece il pensiero è verticale si tende a pensare all'accordo e ai suoi sviluppi, all'arpeggio dell'accordo. C'è anche la possibilità, sempre pensando in orizzontale, di costruire delle linee guida con delle note cardine che fanno sì che noi possiamo avere dei piccoli paletti con un canovaccio improvvisativo. Nel B-BAP si utilizzano questi approcci contemporaneamente orizzontale e verticale. Rimango ancora su questo concetto di improvvisazione orizzontale e verticale per qualche slide, semplicemente per essere sicuri di aver capito il mondo in cui ci troviamo. Nelle precedenti lezioni abbiamo visto che un approccio orizzontale prevede l'uso delle scale, che le tecniche principali sono il fatto di analizzare il centro tonale del brano, definirne la tonalità di impianto e utilizzare la scala, che poi è la tonalità del pezzo, per improvvisare fino al punto in cui il brano modula, perché ovviamente i brani possono modulare da una tonalità all'altra. Un altro approccio è quello di utilizzare delle scale modali e quindi associare una scala a ciascun accordo. E poi c'è l'approccio della linea guida, di costruire quindi delle note cardine a cui aggrapparsi, diciamo, nell'improvvisazione. Poi c'è l'approccio verticale, che è l'uso di arpeggi e degli accordi, il tutto arricchito con note di passaggio e cromatismi. Abbiamo detto che nell'improvvisazione biba scale e arpeggi vengono utilizzati, cioè questo modo di pensare a scale e arpeggi vengono utilizzati contemporaneamente. Questo è abbastanza sensato se pensiamo che le scale diatoniche sono direttamente collegate agli accordi che usiamo per descrivere l'armonia di uno standard tramite delle sigle. immaginiamo di avere un do major 7, l'arpeggio è do mi sol si, le estensioni dell'arpeggio possono essere nono, undicesima e tredicesima, quindi in questo caso sarebbero re fa la, quindi se io improvviso pensando agli arpeggi avrò come note do mi sol si re fa la, ma questo materiale fuso insieme crea la scala, quindi avrò la scala di do maggiore. E' ovvio che il punto d'arrivo, quindi il materiale, è lo stesso, quindi sono le sette scale note della scala di do, oppure le sette note dell'arpeggio di do major 7 esteso alla tredicesima. Ma pensare in verticale o pensare in orizzontale porta a un uso diverso di queste note, viene spontaneo, è un po' come se io facessi l'anogramma di una parola, se io dico il mio nome Silvia, l'ordine di apparizione delle lettere sarà Silvia e il suono è il mio nome, se io uso le stesse lettere ma le pronuncio con un ordine diverso, il mio nome avrà un altro suono, eppure le lettere sono le stesse. Questo è esattamente quello che avviene quando un musicista sceglie un approccio orizzontale o verticale all'improvvisazione, il tipo di uso di queste sette note che ha come materiale, diciamo come mattoncini per creare la sua composizione, automaticamente assume aspetti differenti, nonostante il materiale sia identico. Questi sono piccoli esempi che avevamo già fatto nelle lezioni precedenti, qui vedete un esempio di brano, questo qua sotto, prime otto battute in do maggiore e qui vedete che utilizzo la scala di do come materiale su fin ciascuna battuta, quindi l'approccio tonale orizzontale si utilizza una tonalità. In questo esempio invece, stesso brano, ma ho utilizzato gli arpeggi degli accordi su ciascuna sigla, quindi ho usato un approccio verticale, questi sono esercizi preparatori ovviamente, in cui ho usato gli arpeggi prima, terza, quinta e settima con le loro permutazioni rivolti. In questo caso invece ho usato sempre un approccio orizzontale, quindi a scale, ma non ho associato una scala a ciascuna sigla, usando quindi un approccio modale, ogni accordo ha una sua scala di riferimento. L'approccio modale è un approccio che ancora non abbiamo studiato fino ad oggi nelle lezioni teoriche, l'abbiamo solo accennato e lo approfondiremo nelle prossime lezioni. Oggi invece dobbiamo quindi pensare a che cos'è questa improvvisazione bebop, che poi è un po' il papà e il bebop del jazz moderno, quando sentiamo le improvvisazioni con questo uso di cromatismi molto, come dire, dissonanti, ma anche interessanti armonicamente e ritmicamente, sappiamo che questa radice in genere arriva dal bebop. In genere quando i principianti iniziano a improvvisare hanno quel desiderio di suono, improvvisazione jazzistica, quindi ricca di cromatismi, elaborata come accenti, ma poi tendendo ad utilizzare le scale e gli arpeggi nella maniera più consueta, quindi come potrebbe essere il modo appartenente alla nostra tradizione, della musica classica, ma anche della musica leggera di stampo esclusivamente occidentale, questo tipo di sonorità non ci viene. Usiamo la scala giusta, l'arpeggio giusto, ma non riusciamo ad ottenere quella sonorità lì. Il motivo sta nel fatto che abbiamo un uso scorretto, comunque non efficace, dei cromatismi e delle note di passaggio. Visto che l'improvisazione bebop si basa moltissimo sull'uso dei cromatismi e delle note di passaggio, oggi affronteremo un po' più nel dettaglio questo tipo di tecnica e cercheremo di capire come studiarla. Intanto il bebop funziona utilizzando scale e arpeggi esattamente come abbiamo fatto fino a ora, ma farcendoli con due tipi di abbellimenti cromatici, più che altro due tecniche per creare questi cromatismi. Queste tecniche sono l'uso di arpeggi circondando le note dell'arpeggio con note cromatiche diatoniche, l'altra tecnica invece è pensare a scale ma creando delle scale di tipo bebop e oggi parleremo di una e dell'altra tecnica, quindi queste due tecniche di uso del cromatismo. Partiamo dall'idea della scala bebop. Intanto questa scala non esiste nella grammatica della musica occidentale, è un po' come il discorso sulla scala blues che abbiamo già affrontato. Nasce dalla fusione di generi appartinenti a diverse culture, non la troviamo diciamo nella grammatica della musica occidentale nei programmi di conservatorio per musicisti classici. Vediamo un po' come costruirla. Intanto partiamo da una scala normale che definiamo diatonica, in realtà questa è la banalissima scala di Do che conosciamo tutti. Quando suoniamo questa scala di Do avremo una serie di crome che sono su tempi forti e deboli della battuta. I tempi forti sono quelli che dettano l'armonia, quindi Do, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Quindi avremo molto forte il Do, il Mi, il Sol e il Si, esattamente l'arpeggio di Do Major 7. Se poi continuiamo la scala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Quindi avremo Re, Fa, La e Do le estensioni. Nona, undicesima, tredicesima e ovviamente poi l'ottava perché siamo arrivati, quindicesima. Prendiamo solo il primo pezzo di scala. Vedete che sui tempi forti abbiamo Do, Mi, Sol, Si, cioè l'arpeggio di Do Major 7. Se noi utilizziamo la scala maggiore sull'accordo di Do, tendenzialmente avremo sugli impulsi forti queste quattro note molto caratteristiche dell'accordo. La scala Bebop nasce proprio dalla necessità di inserire dei cromatismi all'interno della scala allo scopo di acquisire un controllo sulla sonorità armonica emessa dalla scala mentre la suoniamo. Quindi per avere più padronanza nel sapere quali saranno i tempi forti della battuta e quali note andranno a cadere su questi tempi forti. Facciamo un esempio, questa è una scala Bebop discendente, Do, Si, La, La bemolle, cromatismo aggiunto, Sol, Fa, Mire, Do, Si, La, La bemolle, Sol, Fa, Mire, Do. È una scala Bebop che è la scala maggiore con l'aggiunta, in realtà questo La bemolle è visto come quinta diesis, con l'aggiunta della quinta diesis, quindi di un cromatismo. In questo modo i nostri tempi forti saranno Do, La, Sol, Mi, ovvero l'arpeggio dell'accordo di Do sesta. Quindi se noi su un accordo Do major 7 suoniamo una scala Bebop, in realtà aggiungiamo nella nostra sonorità questa sesta sul tempo forte. Secondo questo pensiero si possono costruire tante scale Bebop e se ne possono studiare tante, ora ve ne faccio vedere alcune, in realtà vedremo che un po' come tutte le tecniche di improvvisazione e tutto il materiale che si utilizza per studiare jazz bisogna interiorizzarlo, fare degli esercizi, ragionarci ma poi a un certo punto cercare di averlo talmente interiorizzato a livello di rappresentazione uditiva di ciò che è, che poi viene spontaneo utilizzarlo come se stessimo chiacchierando, non è più necessario decidere, sto usando la scala Bebop maggiore e dare delle etichette e delle definizioni a quello che stiamo facendo mentre stiamo improvvisando, perché perderemo troppo tempo. Detto questo è interessante vedere come le scale Bebop si possono costruire, quante ce ne sono e magari studiarle, applicarle su qualche accordo per impossessarsene. Allora la prima, questa qui, Bebop maggiore, è quella che abbiamo visto nella slide precedente, solo che nella sua forma ascendente vedete che c'è l'aggiunta del Sol di Esis, che prima era definito come la bemolle, ma la nota è la stessa. Poi questa è invece una scala Bebop che è detta di dominante, perché questa volta l'aggiunta è del Si bemolle, e sappiamo che il Si bemolle fa parte dell'accordo di Do settima, non di Do major 7, quindi ha una sonorità di dominante in cui c'è sia la settima minore che la settima maggiore. Perché di dominante? Perché in realtà nei tempi forti Do, Mi, Sol, Si bemolle andremo a toccare la settima minore, quindi la settima maggiore a questo punto è di passaggio. Mentre la scala Doria o Dorica, Bebop, prevede l'aggiunta della terza maggiore, ed è utilizzata sugli accordi minori. Qui vediamo un'altra scala Bebop utilizzata sugli accordi minori, che questa volta ha giustamente la terza minore in quanto scala minore, ma poi ha l'aggiunta della quinta di Esis. Quindi diciamo che questa Bebop minore è la faccia minore della scala Bebop maggiore che abbiamo visto da prima. Quindi questa è una scala maggiore con la quinta di Esis, questa invece è una scala minore con la quinta di Esis. Questa Bebop Locri è un po' più complessa, ve la metto per cultura, ma preferirei che non impazziste troppo, nello studiarle tutte e dare nomi a tutte. Trovate ovviamente il motivo per cui queste scale si possono chiamare così e la loro derivazione. In questa slide, per esempio, vediamo la Bebop minore e vediamo il fatto che è simile a una scala minore melodica, questa qua sotto, ma con l'aggiunta della quinta di Esis. Così come la scala Bebop dorica è simile a una scala dorica, di cui abbiamo già parlato in lezioni precedenti, con una scala che ha la terza e la settima minore, che si usa sugli accordi minori settima, ma con l'aggiunta della terza maggiore. Qui vediamo una scala Bebop più di dominante, delle due settime che vi ho già evidenziato prima. E infatti vediamo che la sua derivazione è quella della scala misolidia, che ci ricordiamo dalle lezioni precedenti è una scala maggiore con la settima minore, che si usa sugli accordi di dominante, i famosi accordi di X7, quella tipologia accordo maggiore settima minore. e qui vediamo la sua forma Bebop, quindi con le due settime, col cromatismo sulla settima. Detto questo ribadisco attenzione, non pensate troppo, le scale devono entrare nel vostro linguaggio ma poi vanno dimenticate, quindi durante la lezione nel corso pratico, strumentale, perché ognuna di queste lezioni di teoria ha anche un suo corrispettivo pratico, che sono i corsi pratici di strumento organizzati dal musicatorio, vedremo che nei corsi pratici gli esercizi consigliati, lo studio sul repertorio consigliato su questa lezione teorica sul Bebop, prevede che comunque voi studiate le scale, ci ragionate, ma poi a un certo punto cominciate ad applicarle un po' a orecchio, magari mischiandole a tutti gli altri approcci. E' importantissimo perché pensare troppo nell'improvisazione equivale a perdere tempo, tempo nel senso proprio beat, e quindi non riuscire più a avere quel collegamento estemporaneo tra il pensiero musicale e la sua realizzazione. Non c'è tempo per pensare così tanto, bisogna studiare prima e poi sperare che in qualche modo il nostro corpo e la nostra mente abbia assimilato quei contenuti e quelle sonorità e a un certo punto pensare meno quando si suona. Questo è un consiglio che do ogni lezione, credo siano 30 secondi ben spesi, quindi l'ho ribadito anche in questa. Andiamo avanti, proviamo a vedere come poter applicare delle scale Bebop, è solo qualche esempio, in piattaforma, nei corsi pratici troverete più esercizi, comunque in questa slide vediamo per esempio un esercizio molto metodico per studiare le scale Bebop di dominante su un giro blues in fa. Vedete? Fa, Mi, Mi bemolle, Re, Do, Si bemolle, La, Sol è la scala di fa Bebop di dominante perché ha le due settime, Mi naturale e Mi bemolle, quindi è una scala Bebop di dominante. La stessa cosa su Si bemolle. Anche su Do, qui si vede meglio alla famosa battuta in cui si arriva al Do settima, avremo la scala Bebop di dominante su Do che prevede l'uso delle due settime. Quindi questo è già un piccolo esercizio da fare sul giro blues, in questo caso l'esempio in fa, ma potete ovviamente trasportarlo in altre tonalità, sulle basi. Bebop di dominante Ora, vediamo qualche esercizio da applicare agli accordi di dominante. In questo caso, appliceremo gli esercizi a Sol settima. Questa è la base, la partenza. La partenza è suonare la scala di Sol misolidio, cioè suonare le note della scala di Sol misolidio senza cromatismi, partendo da gradi diversi della scala. In questo caso siamo su Sol settima, siamo partiti dalla nona o dalla seconda, il La. Qui siamo partiti dalla sesta o dalla tredicesima, Mi. Qua invece siamo partiti dal Do, che rispetto a Sol settima è la quarta o undicesima. E quindi suoniamo la scala discendente. Ora, applichiamo dei cromatismi a questo esercizio. In questo caso, quindi, non ci chiediamo più quale scala Bebop stiamo utilizzando, proprio nell'ottica di non etichettare ogni cosa che facciamo. Semplicemente cerchiamo di prendere questo pattern diatonico e aggiungere delle note cromatiche. L'approccio è quello dell'uso della scala Bebop, ma non ci chiediamo quale. Allora, in questo caso abbiamo inserito il cromatismo tra la seconda e la prima, quindi tra La e il Sol, e tra la prima e la settima, tra Sol e il Fa. Vedete che abbiamo suonato La, La, Bemol e Sol, Fa di etis Fa. Lo stesso approccio nella seconda scala finirà al fondo della scala, perché siamo partiti ovviamente dalla tredicesima. E' la stessa cosa applicata anche partendo dalla quarta. Ora, mettiamo il cromatismo tra la prima e la settima, quindi sempre tra il Sol e il Fa, passando dal Fa di etis. E questa volta suoneremo le nostre scale partendo dall'ottava, dalla settima, dalla quinta e dalla terza. In questo esempio sono combinati due esercizi, quindi mettiamo il cromatismo sia tra La, Sol e il Fa, quindi tra l'ottava e la settima, che tra la terza e la seconda, quindi Si, Si, Bemol e La, che tra la seconda e la prima, La, La, Bemol e Sol. e applichiamo questo esercizio alle diverse scale. Vi consiglio ovviamente di suonare sempre swingando, quindi con un portamento ternario. e poi Grazie a tutti. 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 In questa seconda parte dell'esercizio si vede come è possibile poi trasformare questa cellula in una frase che sia di crome consecutive. Quindi re, re, do, si, do invece che re, si, do, fa, mi, re, mi, anziché fare, mi e via dicendo. Questo è un primo esercizio. Grazie a tutti. 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 Buon lavoro. Grazie a tutti.